Ciao a tutti, finalmente una volta tanto mi vedete senza il berretto, abbiamo anche gli uccellini che cantano. Parliamo ancora di matematica, sperando di dire qualcosa di originale, che magari non vi è stato detto a scuola, a liceo, all'università. Parlo della relazione tra matematica e verità. Si dice che la matematica è una scienza esatta e che nel suo è una verità assoluta. Nell'aggettivo assoluto secondo me è la chiave, nel senso che è slegata dalla realtà o può essere slegata dalla realtà. Mi spiego. Nel video precedente dicevo che la matematica è generalmente più avanti rispetto al tempo in cui viene sviluppata, ovvero i problemi che i matematici ricercano molto spesso non sono problemi del mondo reale, ma magari le loro scoperte vedranno un'applicazione solo nel giro, nell'arco di diversi secoli. Tuttavia non è che la matematica sia del tutto slegata dalla realtà, anzi, la realtà al mondo in cui i matematici vivono ha una grande influenza. Beh, innanzitutto pensiamo proprio alle origini, la matematica è nata per risolvere problemi concretissimi, tipo il contare, risolvere problemi geometrici per l'architettura immaginiamo, magari. E dopo chiaramente la matematica si è sviluppata un po' a parte. Perché? Perché la matematica è un po', almeno i matematici così la vedono come un gioco, una passione. Quello che è importante capire è che la matematica non è necessariamente legata alla realtà. La matematica è fatta di principi, assiomi, che sono stati inventati, definiti da matematici, tipicamente con uno scopo di risolvere problemi reali. E quindi tutte le definizioni della matematica sono state pensate in modo da assomigliare il più possibile alla vita reale, in modo da essere utili. Pensiamo per esempio alle operazioni, no? L'addizione, 2 più 2 fa 4, perché noi sappiamo che nella vita reale se abbiamo 2 mele, ne aggiungiamo altre 2, otteniamo 4 mele. Però nulla mi vieta di definire un'operazione di addizione nel mio mondo matematico, in cui ogni volta, per esempio, che faccio un'addizione, aggiungo un'unità in più. Per esempio, 2 più 2 non fa più 4, ma diventa 5, perché aggiungo 1 ogni volta che compro l'operazione di addizione. Voi dite, questo non ha nessun senso? Sì, non ha nessun senso, perché rapportato alla nostra vita e al nostro mondo, questo non corrisponde alla nostra esperienza. Però nulla mi vieta di definire l'operazione così. Non è sbagliato in sé. Può essere che sia poco utile, può essere che, andando avanti ad esplorare questa teoria, questo mondo matematico in cui ogni volta che si fa l'addizione si aggiunge un'unità, può essere che si arrivi ad avere che i calcoli sono troppo difficili, o altre contraddizioni che poi comunque si possono risolvere con altre definizioni, aggiustando un po' la definizione magari. Quindi, se i matematici non hanno pensato a questo tipo di addizione, è perché probabilmente magari ci hanno già pensato, ma hanno trovato che non è un'area fertile per la ricerca, perché diventa troppo complicata e non hanno visto un beneficio. Poi, un altro esempio, parliamo dei numeri negativi. Anche i numeri negativi, se ci pensate, non hanno nessun rapporto con la realtà. Dei numeri negativi parleremo un'altra volta, perché anche qui c'è qualcosa di interessante da dire. Però, comunque, li capiamo. Se pensiamo alle operazioni sui numeri negativi, alla moltiplicazione, il fatto che un numero negativo moltiplicato per un numero positivo, dia come risultato un numero negativo, questa è puramente una definizione. è chiaro che ben si accompagna alla nostra esperienza nel mondo reale. Se io ho un debito e lo moltiplico per tre, ovvero ho tre di questi debiti, io vado ancora più in negativo. Quindi, ci sembra ovvio che il risultato sia un numero negativo. E questo va bene, ma è una definizione. Anche quello che a me, quando ero a scuola, mi ha colpito molto è quando mi hanno insegnato il prodotto di due numeri negativi. E mi hanno detto che il prodotto di due numeri negativi è un numero positivo, ovvero meno due per meno due fa quattro, più quattro. mi è sembrato molto strano perché, e ne ho detto che è una definizione. È stato definito così. È stato definito così perché dopo risulta, questa definizione risulta molto comoda per il calcolo, per il calcolo aritmetico. Sentite questo uccellino? Non so se lo sentivate, è un canto molto particolare. definire l'operazione di moltiplicazione tra due numeri negativi come avente risultato numero positivo è comodo perché attribuisce all'operazione di moltiplicazione alcune proprietà utili, tipo la proprietà distributiva. Ma di per sé, capite bene, che questo non è collegato alla vita reale. Cosa vuol dire? Tra l'altro il stesso concetto di numero negativo, cosa vuol dire? Avere meno due mele moltiplico per meno due mele. Non ha nessun senso, capite bene. Eppure è stato definito così e questo risulta molto utile. In pratica, quello che sto cercando di dirvi è che la matematica è fatta di regole, di definizioni, di principi, di assiomi che sono esclusivamente il frutto della nostra mente. la nostra mente, ovviamente condizionata dalla nostra esperienza nel mondo reale, però il matematico è libero di pensare a tutto quello che vuole. Cioè, matematico, dico matematico, in realtà non è un privilegio, è una cosa che possiamo fare tutti noi, solo che magari sono i matematici che amano più sbizzarrirsi in queste cose. Un altro esempio abbastanza interessante. Quando noi contiamo, noi immaginiamo i numeri come un insieme infinito. Dopo l'uno viene il due, dopo viene il tre, dopo viene il quattro, dopo viene il cinque, ogni volta che aggiungo un'unità, trovo sempre un nuovo numero. Sono infiniti. Perché è così? Perché è un po' l'esperienza nella vita reale, chiaramente non abbiamo mai infiniti elementi da sommare, tutto è finito, però nella nostra mente sappiamo che se io ho un certo numero di sassi, aggiungo un sassolino, ne ho uno in più. E questo deve essere rappresentato da un numero. Tuttavia, nei secoli, i matematici hanno... adesso non so a chi dovrei guardarmi la storia di questo, hanno inventato un'area della matematica che si chiama aritmetica modulare, in cui i numeri non sono infiniti. Per esempio, per fare un esempio, immaginiamo che i numeri siano sei, ovvero, io ho lo zero, uno, due, tre, quattro, cinque, e basta, non ho altri numeri. Quindi quando faccio cinque più uno, che nel nostro mondo sarebbe sei, lì si riparte da zero, e quindi cinque più uno fa zero. Cinque più due, che farebbe sette, fa due. Scusate, ho sbagliato. Cinque più due, che farebbe sette, fa uno, si toglie sei. Questa sembra un'assurdità. Perché devo fare così? Beh, è stato definito così. Punto e basta. Non è che necessariamente debba avere un'applicazione nella realtà. In questo caso, questo è uno di quei casi in cui queste teorie bizzarre, apparentemente bizzarre, poi hanno trovato un'applicazione nella realtà. Beh, questo è abbastanza semplice. Pensiamo all'orologio. Pensiamo a un orologio di... in realtà non esistono con le... credo, non esistono orologi di lancetti con 24 ore, ma lo dico così per fare... per rendere l'esempio più facile, altrimenti se faccio con 12 è un po' più difficile. Allora, l'orologio in realtà ha 24 ore e dopo il 24 si torna a zero. Se sono le 23 e io aggiungo due ore, non mi arrivo le 25. Le 25 non esistono. Arrivo l'una di notte. Se sono le 22, aggiungo 4 ore, non arrivo alle 22 più 4, 26 che non esistono, arrivo alle 2 di notte. Si toglie 24, si scala ogni volta 24 in modo che il risultato sia compreso tra 0 e 23. E questo è una delle applicazioni di questa aritmetica modulare. Ce ne sono altre importantissime di importanza però molto recente, nell'ultimo secolo, che sono nell'informatica, nella crittografia, si usa moltissimo l'aritmetica modulare e poi anche nella costruzione, nella logica che sta dentro i processori, perché tutti i registri, le zone di memoria che contengono i nostri dati sono finite. Il byte arriva da 0 a 255 e poi ritorna. Quindi è tutto basato sull'aritmetica modulare. Penso di avervi dato abbastanza esempi e quello che vorrei che vi restasse è quello che ho detto prima. In pratica la matematica è puramente un'invenzione. È tutta un'invenzione che io amo. Lo dico chiaramente perché se dico che è un'invenzione magari può sembrare che stia vituperando la materia. No, no, assolutamente. Ma dobbiamo avere presente che è tutto un gioco che si svolge nella nostra mente. E poi nelle prossime puntate vedremo come la nostra mente è influenzata dalla realtà. Ma in principio non c'è nulla. Nessuno può dire che l'aritmetica modulare sia più giusta o sia più sbagliata dell'aritmetica non modulare, quella con i numeri infiniti. Nessuno può dire che la mia operazione di addizione in cui aggiungo un'unità extra è sbagliata o non ha ragione di esistere. Beh, questo forse si potrebbe dire che è meno valida, ecco, meno valida dell'aritmetica convenzionale. Può essere sì che non sia produttiva, che non serva a niente, può darsi, però ha la stessa identica validità perché la matematica è fatta di definizioni e di regole che sono state inventate da noi. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao!